Uè Luke, ciao, senti sto preparando una cosa per il canale che ti farà schiattare, riguardo Stangouts, tutti i bordelli che fate, assurdo vedrai Coso, non sparare puttanate su persone o cose che tu non conosci o non sai No ma Luke, io le seguo le tue live, mi piacciono, sono interessanti sicuramente, però comunque stai calmo, perché ti devi alterare così scusa? Io sono un po' agitato, però quando si parla di verità e sputtanamento mi agito e cuore Eh, l'ho visto, però stai tranquillo, cioè comunque sia, è una cosa carina, perché potrebbe comunque avere un sacco di mi piace, un sacco di commenti Ma può commentare Kedan, può commentare Topo Gigio, eh, Padre Pio, chiunque voglia Sì, 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 ovviamente YouTube è una piattaforma aperta a tutti, quindi nessun problema Comunque date una calmata, poi ci andiamo a prendere un caffè insieme, anzi, una camomilla, forse è meglio Un bicchiere di birra, allora sì Eh vabbò, ci prendiamo un bicchiere di birra, che ti devo dire? Comunque stai tranquillo, respira e ascoltati sta canzone Vabbè Queste live sul tubo sono molto interessanti Stream i giochi, stream i vlog, streaming barazzanti Si parla dei problemi e di offese agghiaccianti Figa tette, culi, cazzi, cose ammalianti La gente dice cose e dopo cambiano le facce Quella merda, taci donna e le frenzonate Per le sorelline del bastone mi dispiace Vieni su Hangouts per la fi, cento mi piace Guarda, guarda, guarda La fi, a cento mi piace Vieni su Hangouts per la fi, cento mi piace Dico cose interessanti, otto ore un po' pesanti Si sparli male ma sei amici fino a quando tu mi dici Questa è una mia opinione Parte il troll con amore, Billy Foster divertente Top commentatore Il salottino di quest'oggi è proprio devastante Mafia rotto, hide e morto, poster senza mutande Il troll in queste Hangouts non è poi tanto mancato Una voce da lontano Sei stato flame zonato Prendo una live privata così che tu non la veda Vieni su Hangouts per la fi, cento mi piace Per corso, abbiamo spazzato anche questo mistero, no? Vieni su Hangouts per la fi, cento mi piace E' un Hangouts interessante Non prendete questa cosa che ho fatto come un'offesa Smettiamola col flame e proclamiamo qui la resa Per farvi felici il capo ha fatto una sorpresa E' stato nelle live una cosa più efficace Vieni su Hangouts per la fi, cento mi piace La fi, a cento mi piace Vieni su Hangouts per la fi, cento mi piace Ui ragazzi, spero che questa canzone vi sia piaciuta E' inutile stare a specificare le solite cose Che non ce l'ho con nessuno Ed è semplicemente un video per far divertire Ringrazio la D-Production per la base musicale Vi invito a passare anche sul loro canale Che lascerò in descrizione Voi mi raccomando, seguitemi su Facebook, Instagram E entrate nel gruppo Telegram Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao GAUZ INTERESSANTE